Siamo con Alessandro Delaini alla prima esperienza con lo sport in Musile. Alessandro, come ti trovi con i Leoni e con i tuoi nuovi compagni di squadra? Allora, questa è una nuova avventura, mi sto trovando molto bene grazie ai compagni che mi stanno facendo sempre tentare i meccanismi del calcio 5. Il rapporto con i compagni è ottimo e anche con tutta la società mi sto trovando molto bene. Prima partita di campionato, subito due reti, sembra che stai entrando rapidamente nei meccanismi dello Sporting, trovando due splendide reti e vincendo anche la partita. Queste due reti sicuramente mi rendono orgoglioso del lavoro che sto e che stiamo facendo insieme alla squadra. Come già detto prima mi sto ambientando in questi nuovi meccanismi e sono felice per aver segnato le due reti e per aver portato a casa la vittoria in cena ai compagni. Sì... Mo'è? L'imba Grazie a tutti.